Pochi minuti e arriverà qui a Benevento il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tanta l'emozione qui alla stazione centrale di Benevento. E tante emozioni si è vissuta questa mattina all'arrivo del capo dello Stato Mattarella, ad attendere uno schieramento di forze dell'ordine, carabinieri, polizia, digos, nonché protezioni civile, tanti curiosi di vedere la massima carica dello Stato giungere nella nostra città. Una volta messo piede nel sagno, Mattarella si è diretto verso un gruppo di bambini e scolaresche che hanno salutato per la prima volta il loro leader. Bello! Bello! Stai emozionando? Bello, sì, è stato veramente benissimo! Sì, è stato veramente benissimo! Io ho difetto! È stato quando ci hanno messo un po' troppe ore. Bimbi accompagnati da mamme e nonne, ma anche anziani e semplici cittadini che hanno accolto calorosamente l'arrivo del Presidente della Repubblica, giunto a Benevento per una visita al Museo del Sannio e per inaugurare l'anno accademico dell'Università degli Studi del Sannio. E' emozionante, felicissima che il Presidente sia stato accolto bene in città, Per noi studenti sicuramente è una bella cosa, non si è visto spesso, quindi ci fa piacere. Sicuramente è una cosa che si vede poco, quindi uno strascico positivo ci sarà. Emozionante, quello che stavo raccontando al bimbo, davvero emozionante, sono riuscita a stringergli la mano, è un'emozione. E' comunque un piacere ricevere una persona di questo calibro istituzionale nella nostra città piccola, e fa indubbiamente piacere. È bello che verrà a fare l'inaugurazione dell'Università del Sannio. Però credo che sarebbe opportuno che il Presidente prendesse atto dei problemi della città.